. Grande fratello, Barbara Palombelli nuova conduttrice? Belen fuori dai giochi. Grande fratello, la nuova conduttrice è Barbara Palombelli? Belen fatta fuori. Chi sarà la nuova conduttrice del grande fratello che tornerà in onda ad aprile? Secondo quanto fa sapere il blog di Davide Maggio, Mediaset starebbe vagliando un nuovo nome, quello di Barbara Palombelli. Grazie allottimo successo ottenuto negli ultimi anni con Forum, la moglie di Francesco Rutelli è oggi stimata e apprezzata ai vertici dellazienda. E ora i dirigenti starebbero facendo il possibile per avere la conduttrice in prima serata, per il ritorno dello storico reality show. . E Belen Rodriguez? Non era già stata designata come presentatrice ufficiale, erede di Alessia Marcuzzi? Ebbene, quelli di Canale 5 ci avrebbero ripensato, sono in molti a ritenere la showgirl argentina ancora inesperta in programmi del genere. . Belen Rodriguez non condurrà più il grande fratello. . Oltre a Belen, sono stati depennati dalla lista delle papabili candidate della nuova edizione del grande fratello anche Alessia Marcuzzi e Anna Safroncic. . 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